E' un magnifico paesino che mi ha accolto con un entusiasmo straordinario. Sono 100 ragazzi, ho detto 100 ragazzi, che vogliono fare una lezione di sbarra a terra, che è una cosa durissima e che quindi riempie di grandissima emozione e di grande soddisfazione per me. Evidentemente stiamo calando apparentemente in tanti settori, ma invece forse nella danza stiamo aumentando di livello, perché i ragazzi non si interessano più soltanto a delle cose molto coreografiche, non vogliono soltanto imparare immediatamente delle legazioni di grande scena, ma forse si interessano a una tecnica, perché quello che io faccio è una tecnica, ed è la cosa più difficile, a qualche cosa di noioso forse, però basilare.